ed eccoci qui per un'altra bella pilloletta allora cosa andiamo a vedere questa volta andiamo a vedere dns jumper che cosa è dns jumper è un software completamente gratuito completamente free per velocizzare l'accesso a internet grazie a i dns cosa sono i dns the main name system è un fattore che comunque vi può migliorare l'accesso in domanda e risposta per quando andate a visitare alcuni siti ricordatevi inoltre che avendo i dns di default cioè quelli che vengono dati direttamente quando andate a caricare windows alcuni siti specialmente con i dns italiani non sono visitabili perché i dns italiani bloccano l'accesso a alcuni siti giusto quindi andando a cambiare i dns la situazione non solo vi permetterà di entrare in siti che apparentemente sembrano inaccessibili ma comunque velocizza i tempi di risposta ok come si fa come lo scarichiamo lo vediamo subito eccoci qua andiamo subito a vedere come scarichiamo dns jumper passiamo a schermo allora su google non andiamo altro che come al solito cliccare il nome del programma che ci serve quindi dns jumper entriamo e come al solito ringraziando il cielo la prima voce proprio dns jumper versione punto 2 della sordum che è la casa appunto che produce questo software completamente gratuito ci clicchiamo sopra e semplicemente senza bisogno di andare a fare il download direct vedete qui c'è scritto dns jumper 2.2 che è l'ultima versione ci clicchiamo sopra e come vedete eccolo qua me l'ha scaricato una volta che avete scaricato il file zip andate in mostra nella cartella e ve lo troverete qua zippato ok cosa ho fatto come al solito non ho fatto altro che crearmi una cartella io per esempio l'ho messa dentro il disco locale c vedete dns dove sta me lo trovera eccolo qua dns jumper ho fatto decomprimere il file zip e mi sono creato la cartella dns jumper cosa importante da dire anche questo programma come vi ho fatto vedere altri nelle pillole che dei video che già abbiamo fatto non va installato basta semplicemente lanciarlo quindi ho creato un collegamento ed eccolo qua me lo sono messo sul desktop ok una volta che sta sul desktop cosa dobbiamo fare molto molto semplice doppio clic a quel punto parte dns jumper tutto qui eccolo qua guardate semplice 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 allora precisazione importante da fare non è che io debba utilizzare esclusivamente dns jumper per cambiare dns voi sapete bene che c'è un altro procedimento per poterlo fare giusto qual è vediamo io devo andare semplicemente ad aprire le proprietà internet del dove sta appunto il computerino fare apri proprietà andare logicamente a modifica opzioni scheda ok mi appariranno le schede in questo caso io sono collegato con un cavo ma anche se fosse internet andavo sulla scheda wireless cliccavo con il destro andavo in proprietà selezionavo il protocollo internet versione 4 tcp ipv4 che è quello che ci interessa facevo proprietà e entravo finalmente nella finestrella che mi fa vedere i dns che sto utilizzando in questo caso io sto utilizzando quelli di google 8 8 8 8 8 8 4 4 ok come potete vedere come avete visto e come molti di voi già sanno è comunque un procedimento che insomma è abbastanza lungotto ma soprattutto io eventualmente dovrei conoscere i dns da applicare ok cosa c'ha di bello dns jumper che nel momento in cui io lo vado a utilizzare a parte le opzioni che si capiscono da sé aggiornamenti se volete vedere se c'è una nuova versione ma questa è l'ultima e credo per il momento non cambierà io vado su impostazioni posso andare a leggermeli tranquillamente vi consiglio di non toccarle perché sono già selezionate per le migliori delle ipotesi logicamente della funzionalità le vado a chiudere e rimango su questa schermata molto semplice innanzitutto cosa vado a fare la prima cosa importante logicamente io voglio che dns siano applicati su tutte le schede di rete ma prima avete visto ho dovuto vedere qual era la scheda che mi interessava nel caso in cui per esempio io ho una scheda wireless tra queste schede mi verrà selezionata e quindi io metterò se l'unica scheda la wireless ve lo farà in automatico se avete due schede e volete per esempio applicarle solo sul wireless e non sul cavo voi potete selezionare la modalità con quale dns jumper va a cambiare quindi eventualmente o solo su wireless o solo su jumper prima di tutto se voglio modificare dns cosa vado a fare vado a pulire i dns che già ho sentirete un suono ok questo vi segnala che la cache dei dns che abbiamo precedentemente applicato o avevamo è stata svuotata a quel punto non devo fare altro che andare a dns più veloci mi apparirà questa finestra dove ci sono tutti dns considerate che anche nelle opzioni ma anche qua se voi conoscete altri dns o vi hanno fatto una segnalazione ne conoscete quelli potete aggiungere quindi vengono comunque conteggiati alla fine prima che vengano applicati nel momento in cui dobbiamo andare a vedere quelli più veloci risoluzione turbo se io l'applico come vedete cambia il numero vedete diventa 300 contro 2005 questo semplicemente vi fa capire che lui andrà a considerare solo i dns quelli che hanno un tempo di risposta che come vedete se io vado sopra varia da 1 eccolo da 1 a 5.000 millisecondi ma qui già 2.500 e 300 comunque sono millisecondi accettabili se proprio volete esagerare però logicamente considerate che il tempo di ricerca di risposta dei dns diventeranno molti di meno perché logicamente lui andrà a cercare solo i dns quelli iperveloci che non è detto che sempre vadano al meglio adesso se io sulle opzioni clicco per esempio con il tasto destro ok lui io posso o deselezionare tutto e quindi per esempio applicare direttamente solo i dns di google per esempio che a me mi fanno comodo oppure cliccare col destro fare il selezione tutto e far partire per esempio la risoluzione turbo voglio vedere i dns più veloci e avviare il test come vedete il test sta partendo dns jumper andrà a fare un conteggio e mi segnalerà manca farlo apposta in questo caso che gli 88448888 che è il dns di google infatti vedete me lo contrassegna in verde il più veloce a questo punto io non faccio altro che fare applica server dns faccio clic me lo segnala con un rumore che è stato cambiato chiudo questa finestra e mi accorgo che appunto il dns anche se era stato suonato è stato applicato ok io posso anche fare un test qua per vedere qual è il tempo di risposta cliccando su questa freccine fatte a tondino che si una rincorre l'altra e mi dà praticamente la risposta in millisecondi allora questo è un softrino veramente molto 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 comodo molto veloce molto semplice da utilizzare considerate che dove vi accorgete del vantaggio a parte il fatto indiscutibile come vi ho già detto che in alcuni casi con i server quelli di default non è possibile accedere ad alcuni siti e quello secondo me già un grosso vantaggio enorme il fatto di cambiarli con questa semplicità per poter accedere a certi siti che altrimenti vi segnalerebbero che sono bloccati cioè non vi permettono l'accesso ma una cosa importante veramente fondamentale e comoda diciamo che se voi come al solito passiamo un attimo a schermo andate su internet e cercate il famoso utilizzato mille volte speed test voi lo sapete che è quello che serve per verificare la velocità di internet entrate dentro per esempio questo di okla scusate che succede che se questo test voi lo fate prima di utilizzare il cambio dei server vedrete sicuramente dei valori del quale poi vi avvanteggerete e quindi andranno a migliorare anche se leggermente per quello che riguarda appunto gli accessi e la velocità ai siti pochissimo poco cambierà il ping magari cambierà un valore maggiore per quanto riguarda la download o l'upload quindi come vi ho detto nel titolo come vi ho specificato è anche un discorso per velocizzare internet oltre a bypassare certi blocchi che appunto siti che andreste a toccare con i dns italiani non vi permetterebbero l'accesso ok programma molto semplice molto comodo e soprattutto gratuito ragazzi semplice semplice iscrizione like se vi è piaciuto campanella se volete sapere le prossime uscite easy computer un abbraccio a tutti e tante tante cari cose arrivederci ragazzi e quindi